Mary Jane asm Ehi Ciao Come stai? Sì, come stai? Tutto bene? Sì Tutto bene se non fosse per un po' di stress, dici? Vuoi che mi occupi un po' di te? Sì Eh sì, io sono qua sempre pronta a coccolarvi Ma oggi tocca a te Mi fa molto piacere che tu abbia scelto di farti coccolare da me Cosa vuoi che faccia io per te oggi? Sì Sì, hai bisogno veramente di tante coccole Va bene, allora facciamo così Oggi ti spazzolo un po' i capelli Ti metto un po' di siero sul viso, ok? Ti metto un po' di siero sul viso, ok? Ti metto un po' di siero sul viso? Sì Che vai a casa Però facendola io oggi Tu Avrai giovamento Ti potrai rilassare Allora No, 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 no Devi semplicemente rilassarti Guardi a coccolare Ti devi Fidare di me Fidati di me Fidati di me Fidati Fidati di me Fidati di me Ci penso un po' io bello Invece Sì Visto che abbiamo detto faremo le sopracciglia Poi cos'altro ci spazzano un po' i capelli e ti metto un po' di siero sul viso direi, visto che quando si fanno le sopranciglia ci si arrossa un po' di iniziare prima da lì così finchè finiamo con il resto delle coccole magari non sarei più arrossata ok? a volte si ha proprio bisogno di qualcuno che ti coccoli un po' ma raccontami cosa hai fatto ultimamente? hai viaggiato? dove sei stato? in una località di mare sì, in effetti ti ho visto più abbronzata sì, hai una bella pelle effettivamente l'abbronzatura ti dona tantissimo sì sì, se hai l'opportunità continua ad andare al mare il mare fa bene la pelle anche ok allora iniziamo ok 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 ti sto facendo male? no 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 ok sì, tanto è una semplice pulizia quella che stiamo facendo sì, 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 sì direi di sì sì, sì, sì ok da questo parte ok 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 è ok 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 continuo a sfoltire un altro po' si 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 continuo a sfoltire un altro po' ok si si ci sono i miei vicini che parlano si loro parlano parlano sempre chiacchierano non so cosa si dicano esattamente però li sento sempre chiacchierare beh è probabile che abbiano molto da dirsi anche i tuoi vicini sono così? e beh ci fanno compagnia beh a suo modo a loro modo sono rilassanti pure loro in qualche modo ok bene direi che con questo abbiamo terminato con le sopracciglia abbiamo terminato si abbiamo terminato con le sopracciglia adesso ok ok allora guarda qua cosa voglio farti vedere questo siero qua eh si il nuovo lo apro con te è un filler vegetale vegetale quindi anche rinfrescante siero è un siero rimpolpante o nitraconcentrato con erba cristallina e acido ialluronico di origine naturale sono tutti prodotti di origine naturale ok andiamo ad aprirlo allora questo è un siero molto 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 bello proprio da vedere com'è la sua la sua bottiglietta eh molto bella da vedere riprende un po' i colori della mia stanza vedi per lo sfondo le prendo un po' ok 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 si ne bastano poche gocce ok 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 adesso io vado a mettertene un po', vedi, ok, spruzzo un po' sulla mano, non esce, non vuole uscire, ecco qua, adoro, senti com'è profumato, ok, te lo vado a mettere un po' sulle sopracciglia, qui, 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 e poi su tutto il resto del viso, ha un profumo delizioso, vale davvero la pena comprarlo, ok, adesso lo vado a spalmare per bene su tutta la pelle iniziando dalla fronte, dalle sopracciglia, lo vado a spalmare per bene, per bene ok 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 ecco abbiamo anche questa la crema, come ti senti adesso, ti senti più fresca, ti senti più riposata, riprescata? sì mi fa piacere mi fa piacere ok ok innanzitutto hai dei capelli bellissimi lunghissimi ok poi questo colore che hai fatto molto bene ti sta sì sì ti piace quando ti accarezzano e ti toccano i capelli? sono sono setosi al tanto sì ecco qua molto belli questi capelli un passaggio alla testa un passaggio alla testa ora ora te li spazzolo sei pronta? sei pronta? o no non far caso al mio profolo eh c'è sempre qualche profolo almeno una o due volte al mese sul mio viso sì mangio schifezza anche sì sì anche questo ok ok no 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 di no Sono lunghissimi, molto lunghi. Ok. Beh, ora come ti senti va meglio? Hai lasciato un po' di stress. Sì, mi fa piacere. Beh, allora torna tutte le volte che lo vorrai. Ti aspetto anche la prossima volta. Ciao tesoro. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.